boh, sto anche registrando il bastardo vuole picciocciarci eh e cicciarci ecco lo sapevo, lo sapevo che arrivava il pirla saltando è ucciso eh? no, non è morto chimera caos io guardavo in realtà che c'era l'elicottero che lo volevo distruggere adesso è morto però anche abbiamo conquistato tutti i punti no, ah no io sto guardandovelo solo giustamente arriva il team FAP via vabbè non morire dai sono appena spawnato no ragazzi mi ha ucciso un cecchino dalla nave ci credete? eh può essere fanno apposta allora vi vedo dove siete sulla spiaggia? io sono vicino a eh che cazzo voi dove siete? io sono qui in mezzo nel container fa un po' di pulizia bastardo ho ucciso non essermi ti prego essermi ezi ho ultitore o tanto srb aspetta dove stiamo andando? evo occhio eh perciò io sto andando su D eeeh abbiamo tutti tutti su D come ho fatto a prendermi vabbè ok nostro elicottero io prendo l'assalto io dai così mi resta l'hai ucciso tu? no non l'hai ucciso tu chi è che mi ha restato? ucciso dall'asval grande mi ha restato ma che razza di merda i cecchini sono una razza di merda vero? io schifo pudorato le voce che ti fanno fuori i cecchini da lì spulito l'ho visto anch'io eh chi è lo strozzo oh ci siamo vicini però ci siamo vicini quando avete bisogno di di vita ditemelo eh anch'io sono assalto ah io sono un geniero meglio che ci serve un geniero triple kill per qualcuno chi è che guida? ho fatto l'elicottero lo tiriamo giù con l'RPG lo tiro giù ma perchè non mi mira Dio Cristo non mi mira l'elicottero oh Dio l'ho ucciso l'ho ucciso non c'è nessuno a bordo mi serve uno ammo che facciamo? eh io no eh ma che cazzo oh bisogna di ammo oh no no di a parte finalmente no non l'ho preso non l'ho preso io che è il fenomeno l'ho preso il jet si porca troia io gli ho fatto degli sbrisci no che andiamo qua a prenderlo riprendiamo E beh ce l'abbiamo già lo difendiamo? stiamo qua a difendere? no andiamo a salto beh ci starebbe comunque eh in un'ipotesi di gioco di squadra però dovremmo potremmo fare la scuola tra C e D e D vi vedo davanti tutti e tre che bello io vado a destra si fai il giro da lato sono in tre ne conto almeno tre panteria panteria sono minima ore 12 vi butto giù una granata io buono ok l'ho colpito con la granata ma non l'ho ucciso io c'ho poca vita ma non c'è io brutto dove sei? sono qua guarda che è una minima vabbè ma ucciso sono tutti e due gravemente feriti che che riesce a rissarmi riesce a rissarmi no? eh che cazzo io un tipo ci siamo uccisi insieme evo mi spiace male mi hanno rissato adesso 1 1 l'ho scortellato vaffanculo cortellato 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 ti abbocco di scortellato come si fa nella rovigo male sono un cecchino di merda comunque sono quelli da chioggia che girano col coltello ecco mi laga la tastiera non va più ok ho cecchini sulla ah qua c'è a destra a destra su ci ecco eh restatemi per favore eh raga non mi va più la tastiera ok adesso va restatemi per favore grandi andiamo a prendere la cd? qui? qui? è la è un figlio di troia ma chi è il cecchino? dov'è? via da qui poi voglio vedere dov'è l'hai visto? no si dio porco vabbè adesso cambio cioè io con l'SKS l'ho colpito due volte non l'ho ucciso e lui mi ha colpito una volta ma l'ho ucciso che cazzo succede qua? eh sono ovunque io mi sono nascosto andiamo in una zona più tranquilla perchè qua ma c'è ma che cazzo? c'è uno che lì gira col fissile a pompa sti attenti se ne avete uno dietro se ne avete uno dietro se ne avete uno dietro gli ho sparato 30 colpi non è morto 77% si vabbè dai mi di cuccio questa tanka ce l'hai dietro vai 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 ma ce l'ho davanti scusa adesso arrivo io in assalto faccio fuori tutti la k74 fanculo sto arrivando io sono stato dietro 3 ore e non mi ha visto e datemi un po' di vita che qui è merda ah no no mi sono riuscito anche poi è vero che ho messo il coltello nel tasto del mouse perchè cercavo F allora cosa facciamo difendiamo qui andiamo a prendere A? dai sono morto su una mine io ho delle mine io piuttosto andrei su D a difendere vabbè si difendiamo noi difendiamo questo punto qua dai no andiamo sopra non stiamo sotto perchè andiamo sopra ok si prendiamo la scuola tra a questo punto e D quindi perchè tanti in teoria dovrebbero arrivare da A in teoria almeno copriamo sopra perchè sennò ci saranno da io faccio lo strozzo e mi nascondo qui in un angolino ci 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 dai vuoi medikit o lancia granate medikit magari dopo uno di noi due si mette lancia granate serve poco in questa mappa a meno che non sei capace di usarlo ma ci sono cecchini sulla nave? eh si che è uno mi ha ucciso prima ma che è merd ma che è merd di! 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 scusate elicottero su di voi mi sto paracaluttando uno eh mi vedo ti sono paracalutando non c'è chi arca madonna c'è chi ho di merda su C dietro C e di... ti sto sparando con la pistola penso a te Lo vado a prendere Occhio, davanti, vedi sulla mappa? Tu, A, si e te? Dove sei? Dove sei? Sotto, guarda sotto, è pieno Stai qua, stai qua Gas Non andala dì, vedi qua Gli arriamo da sopra Odinco Siamo sopra Siamo sopra Ma che bella soppressione che ho fatto lì Dietro, sinistro, a destra Ok, ho ucciso niente Io sto prendendo il punto Anch'io Vabbè abbiamo fatto bene Sì 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 Ho fatto una bella pulizia gli altri anche Dentro alcuni ecoli Di dov'è? Andiamo a prendere D Dopodosso la vai Ci saranno messaggi TANK! Ho anche il tank scappate da lì perché non mi fanno Adesso attenti che sono sponati tutti su D Tutti sono sponati su D Tutti sono sponati su D Datemi una mano, datemi una mano con quei soldati lì Ok Suà 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 Sono morto come un coglione Sono morto Ecco qui Eh non posso Cecchino sopra le Dai cos'è che mi ha colpito qua? Ok Puttana Assalto a frontale qui Jeep, occhio che è arrivata Jeep Ho bisogno di ammo Io porco Che c'ammo qua? Dai che cazzo È morto sto coglione Ho assoluto bisogno di ammo io Eh io non Sulla strada Fante via sulla strada Fante via sulla strada Porco Merda no Hanno preso il DMP Hanno preso Mi sono incastrato Hanno preso il DMP su D Come un coglione Mi sono incastrato Bene ho tirato un Raz E' passato attraverso La Jeep E' passato Io spono sul punto Io spono sul punto come ingegnere Porco d'inco Madonna trota Eh vabbè quella sbalza Non avevo ammo neanche Non avevo ammo Ma no Va a cagare Dio Una panca lumina due Ma che fucile è? Qua è morto però Ma Dio Vero due da quello lì Ma va a cagare C'è Nubo Vita 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 Preso D Non è sicuro ma intanto è preso Cane BMP Il scontro frontale BMP Se qualcuno riesce a riparare il nostro O a sparargli un Raz Ce l'ho io Se non riesco a vederlo Eh sono Una granata Non so cosa servo Non l'ho preso Non lo vedo più Ah è stato battuto Viper in arrivo Io sono sotto il ponte Sono dietro di te Sono traiato dietro un container Ora tu Io ho bisogno di munizioni assolutamente Ho che i cecchini qua io Oh ragazzi hanno preso tutti i punti Eh infatti Cosa facciamo? Io sono ancora in D Dobbiamo dare a prendere Eh? Ok Ok cecchini Ok cecchini Ok cecchini Eh porca puttana si Ma no ma dai Dio Ma no ma si ma su ma dai Ah imbarazzati Ma dai sta mantenendo così bene fino a prima Beh dai abbiamo tenuto ancora Occhio dietro la raga Quanti cazzo sono con la sbal Ma fottiti Stanno guardando l'elicottero Fottiti negro Stanno andando in D passando No che cazzo sto dicendo Eh pio di cecchini Non possiamo andare Sì Stanno arrivando in D passando da E Da quella parte lì Dalla collina Andiamo da lì Andiamo da destra Uscite da lì Non facciamo nulla Oh guarda quanti sono Guarda sulla mappa Eh da destra Lasciate sferdere Delta vieni a destra Eh andiamo a risponderci allo Dai che gli sparo su fuori L'ho ucciso A caso Ho sparato a caso L'ho ucciso Godo Ok che qui a sinistra c'è Andiamo a destra Granata Oddio Porco Dio Non lo mai amo Ci servono i supporti qua eh Lo faccio io se volete E chi è che mi spara? Qua la fanteria è piena eh No ma ho ucciso Ah c'è uno sul ponte Due sul ponte Io Un cecchino di sta cioppa di minchia Dalla barca No ma te sei triste E buonissimo Ho bisogno di ammo sempre io E' una fastidio Lo gli ho scritto Dai allora faccio solo Faccio Si ma come fa? Come ha fatto? Ho mirato prima io ma m'ho ucciso Vabbè Ho preso la Ah c'è Ah era un altro ecco il perché Volete spawnare su di me? Sono in zona abbastanza tranquilla Arrivo Allora io sono diventato supporto Ok Mi tengo mi tengo in zona tranquilla No ma ha tolto tutto La fanteria Occhio la vedi sopra? Gas Occhio 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 da dietro Da dietro Lo smav Lo smav Lo smav Sto figlio di troia con lo smav Che figlio di merda Puttana troia Io ti inculo la vita Ti inculo Con lo smav Sei proprio stro No è bello che io faccio uguale Accessori Ma perché l'ho messo in schermo il nome? No Berta fermati Benziatore Andiamo su D con cattiveria C'è troppa gente Vi conviene passare Per andare sui Vai a sinistra Vai a sinistra Vai a sinistra Cioè No no mo Ho beccato una mina? No Ti sei andato contro il camion Ah perché stavo pistorando col mouse con il DPI Ragazzi lì dai Cioè 7 metri abbiamo fatto Ma perché ero scatto? Stavo pistorando con il DPI del mouse Andiamo a sinistra Andiamo a sinistra Prendrei Sono geniere La bocca è nostro l'elicottero Faccio il canale qua Il canale Il canale Figa suga il canale Prendiamoli da sopra però Si Ficchio porco Non passo in strada Oh perché non riesci a salire? Vediamo i limiti della mappa Ok Ah no no Allora Se mi ammazzano ve lo dico Ok Lag Andiamo piano ragionati Io vado di prepotenza C'è già uno nostro Oh lagga! Anche a me lagga Un pochino anche a me Ascoltate Non state su tutti Non state giù tutti Io sto su Io sto dentro la casa Io sono su E' naturalizzata Cecchino 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 Dov'è? Sono giù Mi hanno ucciso Quello dalla barca Baccherò Dai oh Bisogna che qualcuno Prenda l'elicottero E fa una strage Punto preso Oh ma lagga fuori di testa Adesso a me la Cecchino Cecchino Sempre lui E' sul ponte Ah lo vedo O andiamo a prenderlo Eh li tiro le RPG Li tiro Oh intento di prenderlo da dietro Ho ucciso un ingegnere Ho ucciso quell'altro Ho lanciato la granata sul ponte Ma mi sa che c'era uno sul ponte No l'ho ucciso io Ok Ok Quindi adesso D Oh c'è un'altra sul ponte D'altra parte eh Dall'altra estremità Eh ma preso col GNG Ma dai Che che mi resta Gas Arrivo No arrivo io Sono qua vicino Ah è il nostro Ok Eh ma sei su giù Ah perché ero giù io Cosa facciamo? Il nostro elicottero va a fare i giri del Io mi spacco le gambe qua Vengo giù Dove andiamo? Eh C Vuoi difendere A No se scendi da sdraiato Se scendi da sdraiato Non ti fai male Ok Andiamo a difendere A Che ce lo stanno inculando Andiamo a difendere Beh pigliamo prima C Eh proviamo a prendere C dai Che è una missione suicida Allora lo faremo con Ci suicideremo con classe Ah è il cecchino Visto il cecchino ha visto È di spalle È di spalle Accoltellalo Ah Ah Bestia Amelo Ma ho ucciso Ma ma ragazzi è pieno qua è pieno su c Cortellato Cricket Cricket Cotta Come a cazzo si chiama Mi metto a salto anch'io mi metto dai No ma hanno ucciso ma vaffanculo 7-7 Non so che merda Io sono sopra D E uno adicione Evo se vuoi stare su tu che ci fai da copertura Eh vai Puttana il cecchino mi punta Dai dai resistiamo ragazzi Porca troia Ah c'è il BMP Uno col paracadute Uno che E' il BMP Ah ok Andiamo quattro metri in c dietro Non si può andare quanta L'ha vista Va beh tipo ma che qua ce n'è una no ma ucciso con la sval restatemi per favore arrivo ma dov'è il nemico è morto è morto salite tutti sulla barca dell'amore o dobbiamo fare la differenza adesso dobbiamo andare a prendersi può riparare sono tutti assalto e c'è l'elicottero che merda fermo 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 da anche a sinistra bmp a sinistra bloccato come geniere abbiamo davanti un assalto mi sa dentro come geniere abbiamo il robo pieno se qualcuno ci fotte c'è la merda fa una set to play kill vai su e vai su e vai su e vai su e ok su e si andiamo a fare abbiamo vinto facile le ultime parole famose perfetto c'è un truffante qua a sinistra ok la foto fuori porca troia dai veloce è una roba veloce tutti i punti in discussione eh bella partita ah si davanti eh lo vedo massacrato ok io arrivo io lo stiamo conquistando noi stiamo fregando B D no è nostro allora uno è sceso oh no ma c'è gente con lo smav guarda sopra ok ho fatto in giro dai 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 che questa la portiamo a casa a sinistra eh va via cazzo occhio occhio abbiamo mine dappertutto eh vedo una jeep arrivare col c4 a destra io vedo a sinistra tanti di quei soldati mamma mia massacro eh c'è per qualcuno che ci asperà nooo questo ne ha ammazzati i set in un colpo ragazzi mi sa anche a me però dai gg grazie 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 a tutti.